A EICMA da Vmoto c'è un grandissimo pilota che ha fatto la storia delle corse Orghe Lorenzo, tanta attesa per Orghe ma soprattutto tanta attesa per questa fantastica stash che è il pezzo più atteso della collezione Orghe. Sì effettivamente questa Vmoto Soko stash è un modello nuovo e speciale che hanno fatto quest'anno molto moderno molto futuristico soprattutto mi chiama l'attenzione questo dashboard che ha qua che sembra quasi un iPad puoi anche quasi guardare un Netflix ma non in marcia non quando si guida quando si spiega magari al parcheggio in maniera del focus assolutamente. Moto 120 km orari disponibile da marzo in tutte le concessionarie non vedo l'ora che Graziano mi regala una per per guidarla sul Lugano. Lui poi sul lungo lago fantastico ci sono dei paesaggi magnifici Orghe dove appunto si può fare delle bellissime uscite non deve andare molto molto veloce perché lì già sai le multe tutto quello molto stritto però dai ci sono delle montagne molto belle con un paesaggio bellissimo è un buon modo di godersi la la città no? La città assolutamente ti chiedo anche Orghe tu sei da anni molto interessato impegnato al discorso green e discorso elettrico e tutto? Eh sì chiaro solo abbiamo un corpo solo abbiamo un mondo quindi tanto il corpo come come il mondo lo dobbiamo prendere cura no? Perché alla fine sai molto bello il rumore dei motori di benzina però contaminano tanto no? Quindi dobbiamo un po' tutti lavorare su quel su quella linea penso che l'elettrico è il futuro tanto nelle macchine come nelle moto e B Motosoco sta sta in questo mondo no? Io voglio stare relazionato con prodotti di qualità penso che loro hanno hanno dei miei prodotti. Orghe da quest'anno dai siamo anche quasi possiamo dire un po' colleghi perché ormai sei entrato nel team di da zona hai seguito tutta la stagione appunto del moto mondiale che si è conclusa settimana scorsa a Valenza con con la vittoria di Bagnaia cosa ci dici di questa Ducati Pecco? Eh che ce l'hanno fatta finalmente no? Eh già era ora di di mettere su sul pezzo delle della costanzia delle dei risultati sufficienti per vincere il mondiale perché a livello moto già a Ducati da da qualche anno secondo me erano la il pacchetto più completo no? La moto più completa però bueno i piloti erano ancora giovani ancora un po inconstanti e finalmente Pecco ha riuscito a ottenere questa consa constanza che è fondamentale per essere campione del mondo sono contento per per lui però soprattutto sono contento per da la linea degli ingegneri che che hanno fatto una una moto terribile no? Ti chiedo una cosa riguardo alla Ducati Jorge tu in Ducati hai portato magari una filosofia un po' diversa e ti chiedo c'è ancora qualcosa di Lorenzo su quella Ducati secondo te magari non lo so la staccata forse magari di Pecco che perché comunque Pecco ti ha studiato? Evidentemente uno uno lavora per sé stesso no? quindi quando io ero in Ducati evidentemente lavorava per me per ottenere migliori risultati no? Certo che sicuramente il mio stile di guida è molto molto pulito e serve di una moto stabile e facile per il pilota e quindi ho lavorato su quella strada dopo si quella strada ha fatto diventare la Ducati un po' più guidabile per tutti non è stato un lavoro che ho fatto a conscienza se non un lavoro che ho fatto per me e dopo sicuramente aiutato anche agli altri piloti. Il prossimo anno ci sarà Bastianini con Bagnaia due piloti che sicuramente entrambi vorranno vincere punteranno al mondiale tu che di piloti tosti ne hai avuti in squadra appunto penso a Vale a Marche in onda com'è che la vedi questa coppia? Che idea ti sei fatto? Sarà Bastianini? Facile gestire questa coppia? Sarà complicato? Beh sicuramente non sarà così facile come con Miller no? Sicuramente Miller è un piloto velocissimo con determinate circunstanze era sicuramente più forte però non teneva la constanza qua queste ultime decime che sicuramente a Pecco, a Bastianini, Jorge Martín, Marquez soprattutto, Quartararo no? Miller rimancava quella cosa di genialità no? Quelli che hanno più talento ma invece le Bastianini sembra che ce l'ha all'iguale che Pecco ci sono due stili diversi sicuramente Pecco è un po' più esplosivo a un giro che all'inizio della gara Bastianini invece è super forte la seconda parte della gara però tutte due hanno un livello similare se Ducati riesce a gestire un po' questa rivalità sicuramente farà una coppia fortissima. Gli avversari al momento però devono rincorrere penso a Marquez che dopo i test di Valencia è andato via molto insoddisfatto e anche al tuo amico Fabio Quartararo. Secondo te chi è che ce l'ha più dura? Fabio con Yamaha o Marquez con Honda? Colmare il gap appunto con la Ducati? Tutte due, tutte due. La verità è che Fabio ha fatto un grande campionato perché la Yamaha non ha aiutato non perché loro non vorrezzano perché alla fine la fabbrica prova di darti il miglior materiale possibile però lottando con le Ducati si è visto chiaramente che la Ducati era molto più completa, molto più competitiva quindi Fabio qualche volta ha dovuto fare delle magie e dimostrare la sua velocità facendo dei grandi risultati Certo che quando stai lottando con otto moto velocissime con la Ducati devi rischiare un po' di più e questo lo ha pagato in due gare, due occasioni che ha fatto qualche errorino che l'ha impedito sicuramente lottare con Bagnaia con più punti in Valencia Marquez invece sembra che ha ritrovato un po' il fisico che gli mancava dopo due anni da incubo e sembra che lui anche con una moto molto meno competitiva riesi a stare lì davanti sicuramente se la Honda gli dà un po' di aiuto riuscirà a lottare per vincere il Mondiale Orge ti faccio ancora due domande, lo abbiamo detto prima da quest'anno sei nel team di Dazone quindi vedi la MotoGP diciamo un po' con gli occhi degli appassionati ma comunque anche ovviamente da pilota si dice che la MotoGP del giorno d'oggi non abbia più forse magari mancano i personaggi mancano forse anche soprattutto le rivalità noi per noi abbiamo visto te contro Valentino, te contro Marquez, Marquez contro Valentino poi c'era Pedrosa, poi c'era Stoner tu che idea ti sei fatto? Se c'è un problema qual è l'aspetto? Secondo me è una combinazione di fattori piano piano si hanno ritirato dei piloti dominanti, dei piloti che hanno vinto tanto anche hanno avuto una personalità molto marcata, ognuno diverso però molto marcata che aveva attirato l'attenzione di tanti fans evidentemente Valentino da tanti anni però anche i rivali di Valentino non eravamo molto indietro a livello di popolarità, quindi la gente si deve un po' abituare a questi nuovi piloti Magnaia ha vinto un mondiale, Quartarado anche, però sicuramente non hanno la personalità così marcata come avevamo noi, sono ancora giovani, sicuramente la maturazione ti fa essere più sicuro di te stesso e mostrarti più come sei, però dai la MotoGP è sana vedi delle gare spettaculari, delle gare divertenti tutte le moto possono vincere le gare, anche se la Suzuki ha smesso, è un peccato però tanto l'Aprilia KTM, come la Honda, come la Yamaha, come la Ducati sono competitive e questo solo si ha visto negli ultimi due o tre anni Ti chiedo Orge, ti abbiamo visto in macchina da quest'anno 4 ruote, ti abbiamo visto nel programma Porsche tutti vogliono questa sfida con Valentino, forse anche Valentino magari gli piacerebbe incontrarti Sì, per il momento corriamo in diversi campionati questo segue anche la sua progressione, sta andando ogni volta più veloce sarebbe un sogno, sarebbe un sogno magari se lui ha questo oggettivo di fare le mans come ce l'ho io, questo è il sogno di fare una delle gare più importanti del mondo tutto è possibile in questa vita, non è super probabile perché ognuno ha i suoi contatti le sue vie in questa nuova avventura delle 4 ruote però tutto è possibile nella vita e adesso che non siamo rivali a Jeremy come eravamo prima la relazione ha migliorato tantissimo e tutto è possibile Vai alla 100 km quest'anno? Purtroppo no, perché con Dazzone e anche con la Porsche Cup ho dovuto impegnarmi molto quest'anno non ho fatto vacanze, quindi adesso subito andrò a Dubai che mi piace molto Ti vediamo, ti seguiamo appunto su Instagram E mi piace il caldo, anche se è un peccato perché è la verità che mi sono divertito tantissimo l'anno scorso e fanno delle grandi eventi, delle grandi feste su 100 km Ragazzi, cosa dire, un grazie di cuore a Orge Orge che adesso è diventato quasi giornalista per la settimana magari potrebbe venire da GP1 in redazione No, non dà più responsabilità la semitempo libere che bisogna avere più di un po' libero nella vita Potresti fare il tester, provare le moto Il tester? Dicono che sia abbastanza veloce No dai, se non vado al massimo in casco rosso per provare a migliorare non sono motivato per provare la moto Che dire, grazie a Vimoto che ha portato qua alla nuovissima station grazie a Orge, ci vediamo prossimamente Orge in pista è stato un grandissimo piacere Grazie ancora